Ciao ragazzi, benvenuti e bentornati in questo nuovo video del vostro palazzone Oggi siamo qua con un video molto particolare perché era da veramente tanto tempo che non vi andavo a mostrare quelli che sono stati i miei acquisti durante questo periodo, definiamolo, di market crash Nel senso che sappiamo tutti benissimo, abbiamo già ripetuto più volte che l'estate spesso e volentieri prevale un abbassamento dei prezzi nel mondo Pokémon e allora vi voglio mostrare quello che ho acquistato anche se qualcuno già ha visto sul mio profilo Instagram che trovate per esempio in descrizione quello che ho acquistato, a che prezzo e a che prezzo gira più o meno oggi per farvi capire il fatto che io ovviamente non solo spacchetto come un matto ma acquisto e lo faccio sia per gusto mio personale sia come investimento a livello ovviamente generale ma prima che il video inizi vi ricordo di lasciare un bel like lo so bene che è estate per tutti ma riusciamo ad arrivare entro questa sera a 150 like mi raccomando e di passare dai link in descrizione Movie Mania, codice Pulse, 7% di sconto per ordinate il 25esio anniversario il gruppo Telegram di Den, compravendita di News Pokémon e il link per Hobby Box, per i vostri fantastici case dunque ragazzi, è stato un periodo lungo perché il market crash, più o meno definiamolo come tale è iniziato circa, possiamo dire, intorno a maggio quando si hanno avute le prime difficoltà di vendita e quindi i prezzi sono iniziati a scendere abbastanza diciamo che è più o meno coinciso, possiamo dirlo, con i Vios ed è proprio circa da quel momento che il palazzone circa, più o meno a inizi di maggio ha iniziato a tirare fuori il portafoglio e a comprare un po' di prodottini vi spiego subito per quale motivo andiamo prima però a vedere quello che ho comprato in questo periodo e a che prezzo gira oggi uno dei miei primi acquisti è stato, signori miei il Gengar VMAX Alternative questo Gengar è uscito insieme a i Vios insieme a due deck, quello di Gengar e quello di Intileon con la possibilità di trovare uno per ogni case Gengar Alternative VMAX e Intileon Alternative VMAX la possibilità di trovare queste carte che sono veramente veramente delle assurdità perché l'ho acquistata? L'ho acquistata perché Gengar è uno dei miei Pokémon preferiti è il simbolo anche del mio canale ed è stato un affare nel momento in cui è uscito il deck io ho acquistato il Gengar VMAX Alternative a una cifra di 65 euro cifra che oggi è più o meno il doppio l'ho acquistato perché sapevo che non mi conveniva assolutamente andare a provare la fortuna e trovarlo perché se ne trova uno in ogni case quindi ragazzi uno circa ogni 10 deck e quindi mi costava troppo e allora l'ho acquistato direttamente ovviamente carta fantastica pagata 65 euro oggi parliamo di circa 120-130 euro di carta diciamo che prevalentemente quello che è cambiato nel corso di questo periodo è il prezzo soprattutto delle Alternative ed è proprio più o meno questa la mia intenzione oggi mostrarvi quelli che sono stati i miei acquisti dove prevalentemente sono Alternative il secondo acquisto che ho fatto è stato un Sandaconda V Alternative la carta promozionale che veniva distribuita in Giappone insieme a Matchless Fighters mi sembra aveva un prezzo veramente veramente irrisorio ovviamente ragazzi carta super super mint l'ho pagata alla bellezza di 7 euro anzi 6 euro e 70 su ebay perché c'era la possibilità di avere il 5 euro di sconto ogni tanto ebay li butta fuori usatele ragazzi perché sono veramente veramente utili l'ho pagata circa 6 euro e 50 barra 7 oggi siamo circa 20-25 euro dall'Italia una carta che a me onestamente piace ragazzi l'ho comprata al di là di tutto perché era un prezzo veramente irrisorio pagare un Alternative comunque 6 euro è una follia e l'ho voluta aggiungere alla mia collezione l'altro acquisto che ho fatto ed è stato l'acquisto più importante diciamo in questi momenti è proprio quello che vedete davanti a me ovvero le 4 Evolution 4 delle 8 V Alternative di E-Virus ho preso Litheon, Vaporeon, Jolteon e Flareon è stato un acquisto fantastico ragazzi nel senso che io sono partito da Litheon era ed è uno dei miei Pokémon preferiti soprattutto delle Evolution ma dovevo per forza accapararne più possibile la mia idea è quella di cercare di farli tutte 8 le V Alternative oggi però le cifre sono molto molto più alte ragazzi rispetto a prima perché io Litheon l'ho pagato 50 euro Vaporeon l'ho pagato 55 Jolteon l'ho pagato 45 euro e Flareon l'ho pagato 60 euro capite bene che oggi solo Flareon viaggia circa 120 euro Jolteon siamo più o meno intorno agli 85-90 Litheon ai 90 Vaporeon siamo sui 100 euro questo è stato sicuramente il mio acquisto più intelligente sia perché erano ad un prezzo troppo basso le carte perché Jolteon via Alternative 45 euro e anche Empoleon che con tutto il rispetto non ci azzecca niente con una carta così bella e quindi ho dovuto assolutamente acquistarle sia perché sono veramente arte pure ragazzi queste carte sono arte le Alternative sono fantastiche sia come piccolo investimento in futuro che tant'è oggi si è già rivelato molto positivo perché in circa nel totale più o meno ho speso 60-100 ho speso all'incirca 210-220 euro oggi parliamo di circa 400 euro di carte capite bene che nel breve periodo è stato veramente veramente un bel colpo da parte del palazzone ma sono nella mia collezione punte basse da qui non esco un altro acquisto che ho fatto diciamo nel breve periodo è stato portarmi a casa nel momento di massima diciamo pull nel senso che nel massimo nella massima presenza di queste carte mi sono accaparato un art set di Hidden Fates ho preso questo art set per inglese a prezzo di base ragazzi quindi l'ho pagato 35 euro se non sbaglio ed è un prezzo ragazzi follia nel senso che prima i pacchetti viaggiavano veramente tanto lo saprete anche voi quindi questo diciamo che è un acquisto un po' più a lungo termine rispetto alle carte già oggi comunque ogni singolo pacchetto viaggia circa tra gli 11 e 12 euro quindi già parliamo ovviamente di un guadagno cosa che al momento non mi interessa fare ma me lo sono dovuto accaparare perché la mia diciamo il mio race popolare pokemon ha avuto il culmine cioè mi ha fatto ributtare grazie a Hidden Fates e quindi mi sono accaparato questo art set a 35 euro oggi parliamo di un art set a circa 45-50 euro vi vado a mostrare l'ultimo acquisto che ho fatto questo più che un acquisto è stato uno scambio con ella che ringrazio mi sono accaparato una VMAX Alternative Art ovviamente come vi ho detto poc'anzi del mio pokemon preferito delle Evolution quindi parliamo di Lithium questa carta l'ho presa in scambio parliamo di circa uno scambio alla pari di più o meno 200-220 euro e me la sono dovuto prendere quindi di base non ho avuto un costo perché la carta che ho dato è una carta che ho pullato ma questa carta è fantastica ragazzi questa carta è veramente veramente bella ve la voglio semplicemente mostrare perché mi piace veramente un sacco come carta mi piacciono le Alternative sono secondo me un investimento sicuro tra virgolette perché gli investimenti sicuri non esistono in generale ma questi sono stati i miei acquisti diciamo più importanti insieme a un'altra particolare qualcuno di voi l'ha già visto l'ha visto sui miei posti Instagram vi ricordo che trovate il link in descrizione venite a seguire il palazzone ragazzi questo è stato uno dei miei acquisti più importanti che ho fatto nel momento di definiamolo market crash pokemon ho acquistato un box di gioco di squadra mint ragazzi box fresh case fresh come lo volete chiamare voi a 250 euro 250 euro il gioco di squadra un box che oggi paghi 500 550 euro questo è stato sicuramente uno dei miei acquisti più importanti che ho voluto fare vi spiego benissimo perché perché il gioco di squadra insieme ad Eclissi Cosmica sapete bene con un box sigillato è uno dei miei set preferiti ho colto la palla al balzo immediatamente e mesi fa me lo sono accaparato per una cifra veramente veramente irrisoria questi ragazzi sono degli investimenti degli acquisti che io faccio dove al di là di tutto difficilmente escono da casa mia salvo per dei trade degli scambi con conguaglio o meno però sono anche degli investimenti personali che mi servono magari in futuro per acquistare qualcosa di più costoso di più importante per me senza smenarci eventualmente troppo fatemi sapere qui sotto nei commenti cosa avete comprato durante questo periodo di flex verso la diminuzione verso il basso delle carte pokemon voglio saperlo proprio qui sotto nei commenti vi piace quello che ho acquistato mi raccomando guardate sempre il link in descrizione e per tutti i case in plexiglass che avete visto ragazzi passate da hobby box dite che venite dal palazzone perché ragazzi super prezzo super qualità un like mi raccomando arriviamo a 150 like so che non vi costa niente ciao ragazzi